Buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, buon venerdì. Il cantante di passaggio in città, che sorpresa Pescara, spunta Sting all'aeroporto, visita del cantante in Abruzzo a Pescara. In realtà è atteso ad un concerto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno e quindi ha fatto scalo nell'aeroporto di Pescara. Andiamo a vedere poi il primo piano, incontro con i cittadini, 5 Stelle di Maio domani a Pescara. Il vicepremier sarà in Piazza Salotto in serata. E poi governatore e senatore Gasparri avverte ed Alfonso decida entro tre giorni quale delle due cariche mantenere. Ancora domenica la Team Cup, poker Pescara nell'amichevole con l'angolana. Andiamo a vedere sotto la fotografia. Riviera, la sosta sarà a pagamento. Siamo a Pescara, ha svelato il piano del comune. Cambiano le tariffe dei parcheggi in centro. Di spalla, nello spazio da leggere, il concerto Coezza Pescara con il mio rap, Faccio un Casino. E poi il libro, il malinconico Flaiano all'Aurum. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Il diritto di Battiato è nostro al silenzio. Il cantante ha dei problemi di salute. C'è l'allusione che sia affetto da Alzheimer, comunque annunciato di volersi ritirare dalle scene. E poi ancora avanti, nel taglio alto, troviamo una bella storia invece. C'è quella di Alessio Figalli e della moglie Micaela e di Giulianova, la moglie del Nobel della matematica. Proseguiamo con il quotidiano in centro. Cambiamo edizione, passiamo adesso a quella teatina in apertura. Chef muore a 34 anni in Peru. Daniele Aquilano, felice, emigrato da Cerenza, stroncato da una polmonite. Sempre per quanto riguarda le altre notizie su questa pagina, andiamo a vedere un ritorno sulla cattura del boss dell'Andrangheta, Kuppari, trovati dieci pizzini nel covo del boss. Latitante per due anni, Francavilla al centro degli affari, dalla cocaina fino a bar e nightclub. Ancora Pretoro, Lazzaroni, via alla protesta dei dipendenti. Proseguiamo con il quotidiano in centro. Andiamo a vedere adesso l'edizione teramana. L'apertura è quanto accaduto ieri pomeriggio sul Gran Sasso. Si salvano nell'aereo che precipita, ultraleggero si schianta sulle montagne del Gran Sasso. Solo lievi e ferite per i due a bordo. E qui vedete la carlinga dell'aereo dopo l'atterraggio di Fortuna. Poi più avanti, andremo a vedere il servizio proprio su quanto accaduto ieri pomeriggio. Sotto la fotografia dell'aereo, l'altra notizia che abbiamo visto in precedenza, fiammata in garage, gravi due donne. Sono le due notizie di cronaca di ieri. Ad Alba Adriatica fanno le ferie a scrocco, coniugi nei guai. Questa è la notizia che arriva invece dalla provincia teramana. Proseguiamo con il centro. Adesso l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Il titolo di apertura, buche, raffica di richieste di danni. L'Aquila, le strade, trappola, scatenano i ricorsi contro il comune. E poi ritroviamo anche qui su questa pagina quanto accaduto sul versante teramano del Gran Sasso, con la paura per lo schianto. E fortunatamente sono salvi i due occupanti dell'aereo. L'ultraleggero che vedete nella fotografia, caduto nella valle del Nacquaro, tra Pietracamela e Fano Adriano. Tra i secolari boschi di Faggio, un aereo ultraleggero partito dalla Croazia e diretto a Roma è precipitato poco dopo le 14, finendo tra gli alberi del bosco Vadillo, in una posizione tale che entrambi gli occupanti sono usciti praticamente illesi. Altre notizie, cocktail di farmaci, poliziotto e grave, Marzia di Tagliacozzo, dramma causato da una probabile delusione d'amore. Poi l'Aquila, il cane eroe caos ucciso dal veleno, anti-lumache, questo quanto emerso dagli esami condotti dagli ZS d'Abruzzo e Molise. Adesso andiamo a vedere invece la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, dunque cambiamo testata. In apertura il titolo è il miracolo dell'ultraleggero Gran Sasso. Piper tenta l'atterraggio di fortuna per un avaria al motore e finisce sugli alberi, praticamente illesi marito e moglie tedeschi che partiti da Spalato stavano volando a Roma. Poi proseguiamo con le altre notizie. Tre ustionate dal fornello dei pomodori, preparano la salsa investite dalla fiammata giallo sulle cause. Due donne sono gravissime, erano intente a preparare le conserve di pomodoro quando dal fornelletto che stavano utilizzando, collegato con un tubo alla rete del gas, si è sviluppata una fiammata con conseguente principio di incendio che le ha investite. Due di loro sono ricoverate in gravi condizioni in centri per i grandi ustionati. Una terza invece si trova all'ospedale di Chieti, dove è arrivata in codice giallo una tragedia sfiorata che si è consumata poco dopo le nove di ieri all'interno dell'ex ristorante La Roccia. Ancora cronaca, Pescara, maxi sequestro di eroina. Preso il Corriere, oltre due chili di eroina purissima, sono stati recuperati dalle forze dell'ordine. Ha arrestato il presunto Corriere, un 47enne di Atese, in quest'operazione dei carabinieri. A centro pagina troviamo nella fotonotizia il colpo di scena sul giallo della morte di Caos, il cane eroe del terremoto del centro Italia, Caos ucciso dal veleno per le lumache. La metaldeide sarebbe la causa del decesso dell'animale, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida e quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise. Adesso bisognerà capire se l'avvelenamento è doloso oppure dovuto a qualcosa ingerito dal cane. Proseguiamo con l'articolo di Spalla. Calici di stelle, vini, cibi e musica nella fortezza di Civitella del Tronto. Grande serata con il nettare di Bacco. Andiamo nel taglio basso, si torna a parlare dell'aeroporto. Minacce ai tassisti, non c'è pace per i tassisti di Chieti, che pure operano legittimamente da poco più di un mese all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Sono riemersi nei loro confronti prevaricazioni e anche comportamenti e atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni tassisti di Pescara, secondo i quali i loro colleghi di Chieti non hanno il diritto di fare servizio in aeroporto. Episodi che uno degli operatori teatini che ne è stato vittima ha deciso di portare all'attenzione del questore. Andiamo nel taglio alto, come di consueto, le altre notizie sul messaggero. Alba Adriatica, vacanze gratis in hotel, nei guai la famiglia degli Scrocconi. Poi mobilità, bike sharing, il capologo Adriatico verso l'appalto. E per la Senie B, Canutè paga la multa e rimane al Pescara. Intanto la squadra ieri ha battuto 4-0 la Renato Curi nell'ultimo test prima della Coppa Italia. Per rotta, stop errori e basta agli alti e bassi. Questo è il richiamo del difensore del Pescara. Andiamo adesso a leggere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, eccolo qui, architetti critici sul nuovo ospedale. Il presidente dell'ordine, Raffaele Di Marcello, l'ASL non può decidere in perfetta solitudine. Le altre notizie, quella di primo piano e sulla fotografia, sopravvissuti per miracolo, l'incidente aereo, l'ultraleggero precipita tra i boschi del Gran Sasso, salva una coppia tedesca. E poi andiamo a vedere di spalla, D'Alfonso, incompatibile governatore o senatore, tre giorni per decidere ancora i servizi. Nuovo centro di poste italiane a Scerne, a Sant'Egidio, dopo il rogo, scatta l'allerta. Inquinamento per quanto riguarda invece il taglio alto, le analisi tossicologiche degli ZS dicono che il cane eroe caos è stato ucciso dal veleno antirumache. Poi, nuovo nome a gennaio, DG degli ZS, il Molise, blocca la proroga di Mauro Mattioli. Nel taglio basso troviamo invece il calcio, Nereto e Giulianova, di Antonia Dattobuca, al pranzo con Bartolini. Questo è l'articolo che troverete sulla città. Lasciamo le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano l'attacco a Colle via Twitter. Il caso, nella notte del No a Savona, creati 400 profili, chiedevano le dimissioni di Mattarella. Alcune firme del Russiagate dietro i messaggi contro il capo dello Stato. Queste le indiscrezioni che emergono dalle indagini su quanto è accaduto in quei giorni. E poi andiamo a vedere il taglio alto. Presidenza della RAI, Foa rimane in campo. Salvini, nessuna retromarcia sul suo nome. Dunque non arretra Salvini sulla candidatura di Marcello Foa alla presidenza della RAI. Adesso andiamo a vedere anche la riflessione. maggioranza, il potere, il senso del limite, scrive Sabino Cassese sulla prima del Corriere della Sera. E poi nel taglio basso, una notizia di cronaca. Gaia, morta a sette anni per una medusa, stava raccogliendo conchiglie in acqua nelle Filippine, uccisa da uno shock anafilattico. Andiamo sulla Repubblica. in apertura Salvini sulla RAI non si cambia. Pronto il blitz sui direttori dei TG. Polemica per il figlio di Foa assunto nello staff del vicepremier. La Camera approva intanto il decreto dignità ieri in serata. L'analisi, il diritto al rovescio, scrive Michele Ainis. E poi la storia nel nome del padre. E' l'articolo di Luca Bottura che parla sempre della vicenda Foa alla RAI. A Torino troviamo il caso Deisi. Indagati tre ragazzi, uno e il figlio del consigliere PD. Il caso del lancio dell'uovo che ha procurato danni ad un occhio dell'atleta della nazionale italiana. Andiamo nel taglio alto. Macerate, il laboratorio della paura. Gli immigrati rimasti in pochi, tra le vittime di tranni dimenticate. Ma resta la percezione di insicurezza, la stessa di tutta Italia. E l'inchiesta della Repubblica, inchieste che stiamo trovando sempre più spesso sulla prima pagina della Repubblica. Ritorno in città, sei mesi dopo il raid razzista a Macerata. Andiamo sulla stampa. In apertura alla politica c'è il via libera, il decreto dignità, ma il rischio Italia agita i mercati. Spread a quota 250, male le borse. Oggi vertice sulla manovra, leghe 5 stelle in pressing su Tria. La Camera approva le norme sui precari e sui gratis. E vince e arriva la scritta, nuoce alla salute. Troviamo un approfondimento sulle strategie di Forza Italia. Tajani all'attacco, non andremo dietro a Salvini. E poi Rai, grana per il mancato presidente. Il figlio di Foan, lo staff del vicepremiere. Ancora la riflessione di prima pagina di Stefano Lepri. Le promesse, le misure possibili. Un argine contro le fragilità. C'è poi un approfondimento su Apple, una mela da mille miliardi. Apple vale quattro volte la Grecia. Questa è la capitalizzazione di mercato dell'azienda statunitense. Andiamo sul fatto quotidiano. In primo piano una notizia diversa da quelle trovate fino ad ora. Air Force Renzi, chi l'ha preso e quanti sprechi. esclusivo la lista dello scandalo. 88 viaggi, 41 sono segreto di Stato. Anche su tratte brevi. Alfano tornò da Bruxelles da solo. 23 passeggeri in media su 300 posti. 25 mila euro l'ora. Questo ci è costato, secondo il fatto quotidiano, l'aereo che è stato però dismesso pochi giorni fa con un provvedimento del nuovo governo. Nuove nomine. Rai Salvini insiste su Foa. Il governo si occupa dei Tg. Questo per quanto riguarda ancora il caso delle nomine Rai. E poi, 38 anni dopo la strage, Bologna. Buona fede ai parenti. Via il segreto da tutti gli atti sulla strage della stazione di Bologna. Andiamo sul manifesto. Qui in apertura troviamo il decreto dignità. Lo chiamavano dignità. Alla Camera il voto finale sul decreto del Ministro Di Maio. Prevede la stretta sui contratti a termine. Indennizzi più alti ai licenziati. Ma contraddice la lotta alla procalità. Con l'estensione dei voucher in agricoltura, turismo e enti locali. Protestano i sindacati. E poi ancora il clima. Toccato il limite invalicabile. Rapporto shock sull'inquinamento da CO2. Record storico di gas nell'atmosfera. Andiamo su avvenire. Qui c'è un fatto abbastanza storico per la Chiesa. La pena di morte è inammissibile. Il Papa riscrive il catechismo con parole nette. Questa è la posizione di Papa Francesco. C'è anche un approfondimento sul caporalato. La solidarietà che salva gli schiavi. Passiamo al sole 24 ore adesso. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano. In apertura sul tavolo di Conte il dossier Nava. Consob prende atto. La Consob è l'autorità che vigila sulla correttezza delle borse. Vigilanza da stabilire la differenza tra comando e distacco dall'Unione Europea. Confusione tra chi chiede l'incompatibilità e l'inelegibilità. Solo il Presidente Mattarella può decidere di revocare l'incarico. Questo è un po' il riassunto. Andiamo a vedere i mercati. Nella fotonotizia Bank of England aumenta i tassi allo 0,75%. Londra alza i tassi ma la sterlina scivola. E' effetto anche delle tensioni sulla Brexit. Sempre per quanto riguarda i mercati. Spread da 255%. Borsa giù dell'1,7%. Le incognite sulla manovra aumentano le incertezze sul debito. Cambiamo testata. Adesso il messaggero. Il quotidiano romano sceglie un'apertura diversa. L'Italia, compagnia di Stato. L'operazione ora è possibile. Piccoli passeggeri e perdite ridotte. I dati del semestre favorevoli al rilancio. Serve un socio straniero e a ridi lungo raggio. Contatti con EasyJet e Lufthansa. Altre notizie. Dalla scuola ai giochi. Ecco il decreto lavoro. Scambio 5 Stelle Lega. Ok. Dalla Camera. Oggi vertice sui conti. Il patto che favorisce gli autonomisti del Nord. Poi apre la spiaggia sul Tevere. Palme finte a fine estate. Stasera inaugurazione con lavori in corso. Per quanto riguarda Roma e il Tevere. Poi nella riflessione di prima pagina di Marco Gervasoni. Si torna sui giochi invernali. L'incapacità italiana di fare squadra. Con questa scelta a tre del conio un po' salomonica. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. Io cronista aggredito dai Rom. Il titolo di apertura. Giornalista del Tempo assalito. Gli sgomberati del River occupano un hotel. Sgradita la presenza del nostro inviato. Per lui mani addosso in minacce di morte. Il sit-in dell'orgoglio nomade. Un flop. In piazza arrivano in tre. E questo per quanto riguarda il ritorno sullo sgombero del Campo Rom River a Roma. Andiamo su Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. In apertura il governo manda i militari in ospedale. Troppi medici picchiati. Arrivano i soldati in corsia. Il 66% dei dottori ha subito violenze verbali o fisiche sul lavoro. Nei pronti soccorso si sale all'80%. 10 casi di aggressione al giorno. La ministra Grillo è una emergenza. A centro pagina nella fotografia. Ennesima poltrona a Casini. L'inaffondabile. Pierferdi eletto. Pure i governi di Lega e 5 Stelle. La guida dell'interparlamentare italiana. E poi ancora. Tre ragazzi colpirono Daisy. Niente razzismo. Una goliardata democratica. Il tiratore di uova. È un figlio del Partito Democratico. È un figlio di uno di un consigliere comunale del Partito Democratico. Andiamo sulla verità. Il caso di Moncalieri. Il papà di Daisy che attacca Salvini. Condannato a 5 anni per mafia. Iredia Osakue per i giudici di Torino. Era fra i capi dell'organizzazione nigerana che controllava lo spaccio e la prostituzione. identificati tre lanciatori di uova. Uno di loro è figlio di un consigliere comunale del Partito Democratico. Questo insomma è l'approfondimento che propone il giornale di Belpietro. A centropagina. Onorato vara la nave patriottica. Via gli sconti fiscali a chi non imbarca marinai italiani. Andiamo sul secolo d'Italia. Il titolo con la foto di Berlusconi. Andremo d'accordo. Abbastanza eloquente sulle spaccature e le divisioni all'interno del centrodestra. In primo piano Moncalieri presi tre ragazzi. Razzismo? No. Goliardia. Foa risponde con classe. Servirò la Rai con rigore. Poi Fernando Aramuro duro. Non puoi accogliere tutti. Andiamo sul mattino di Napoli adesso. Il titolo di apertura. Lega 5 Stelle. Lo scambio anti-sud. Sì della Camera. L'DL lavoro. Critiche soft per avere il via libera sprint all'autonomia di Lombardia e Veneto. Pressing del carroccio sulle imprese del nord. Stretta giochi. Grattevinci con la scritta. Nuoce alla salute. E questo per quanto riguarda il decreto dignità. E poi all'Italia. Conti in ordine. Gli stranieri più lontani. Questo nella relazione dei commissari. E poi le centrodestra a pezzi. La fuga da Forza Italia. De Girolamo in uscita. Andiamo ancora avanti. Le auto del clan nel parcheggio dell'ospedale Napoli. Sciocca il San Giovanni Bosco. La DDA. Un nascondiglio dei contini. E poi il reportage dal San Paolo. Il debutto in campionato a rischio. San Paolo ridotto a un rudire. Solo sette operai nel cantiere. Nel taglio altro. Altra notizia di sport. Il mito della Formula 1. Niki Lauda sta vivendo un dramma. Trapianto al polmone. Ma è in pericolo di vita. Adesso apriamo i giornali sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura pipita febbre a 90. Con il 9. Bene in evidenza che il numero del bomber ex Juventus. Si guaini in fiamma la tifosiria rossonera. Sono molto contento. Prenderà la numero 9. Un altro ex importante del Milan. Shevchenko applaude. Grande Gonzalo. Acquisto eccellente da parte del Milan. Altra trattativa calda di mercato. L'obiettivo nero-azzurro è in vacanza in Sardegna. Modric Inter. Lo scoglio Real. Perez da Madrid dice datemi 750 milioni. Tanto è la clausola rescissoria del contratto. Ma il croato lo incontrerà per il via libera. Vidal al Barca. E spunta un Mr. X. Ancora Atalanta Show 8 a 0. Papu trascinatore avanti in Europa. L'Europa League. Bergamaschi super. Per una deama vista. Altro che crisi. Ragazzi di Gasperini. Travolgono il Sarajevo. Ora c'è l'Aifal. Terzo turno. E poi il ritorno di Bonucci in bianco-nero. Bonucci. Il ritorno del figlio al prodigo. Questa è casa mia. Applausi e fischi per Leo a Torino. Allegri. Giocatore importante. Non è cambiato. E Rugani rimane. Troviamo anche il dramma di Niki Lauda. Il gravissimo trapianto di polmone d'urgenza a Vienna. Rapidamente anche il Corriere dello Sport. Le ore di ansia per Niki Lauda. Abbiamo già visto in precedenza. E poi la suggestione Modric per l'Inter. Che ha oscurato tutte le altre trattative. Dunque il titolo. Eclissi di Luca. Florentino Perez durissimo. Via solo per 750 milioni. Ausilio sta perdendo le speranze e studi alternative. Vidalla la firma con il Barcellona. Dopo essere stato accostato a lungo proprio all'Inter. I Guain li ha rapiti. Accoglienza da star per il nuovo numero 9 del Milan. Pipita potrebbe esordire l'11 a Madrid. Caldare invece riceve l'omaggio di Allegri. Lui via mi dispiace. E poi perché la grande scommessa è la Roma dei giovani. Questo per quanto riguarda appunto la Roma. Su Tutto Sport troviamo l'approfondimento sulla Juve. Con la foto sorridente di Bolucci. Nedved non è finita per quanto riguarda il mercato della Juve. Visita e allenamento per il difensore. Che vedete nella foto. Questa è casa mia. Pavel ammette che possono arrivare altri rinforzi. Dunque ecco Bonucci il vicepresidente rilancia il mercato della Juventus. Nel taglio alto Milan delirio Iguain. Che entusiasmo per l'attaccante. Caldara anche sceva nella supersquadra di Dazon. Per quanto riguarda invece il calcio da vivere sulla televisione. Le altre notizie. L'Atalanta Super 8 a 0 al Sarajevo. Ora si va in Israele. Gomez e Barro show. Poi il Torino alla ricerca dell'esterno. Toro, Gibbs ha detto sì. La WBA apre ai Granata. E poi Vidale a un passo dal Barcellona. Modric avvise il Reale o il rinnovo oppure l'Inter. Questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi nazionali. Adesso facciamo il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore di aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie della nostra regione. In primo piano sul centro. Abruzzo il caso del governatore e senatore Gasparri. D'Alfonso. Tre giorni per decidere. Out-out della giunta del Senato. Ma l'astenzione del PD gli regala un altro mese. Ritardata la convocazione delle elezioni. Ancora lavoro, stipendi da 1.100 a 1.500 euro al mese. Scuola, 436 nuovi posti come bidelli e segretari. Ancora su questa pagina. Ecco 320 milioni per l'edilizia scolastica. I fondi regionali serviranno per l'adeguamento di 165 istituti abruzzesi. Sotto il profilo sismico. L'assessore Berardinetti nei prossimi tre anni. Scuola all'avanguardia dal punto di vista della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. Tensioni nel movimento. Il 5 Stelle sospende le regionarie. Smargiassi va via. Candidato presidente. Misterioso blocco della piattaforma russo. Il consigliere regionale escluso verso l'addio ai pentastellati. Intanto sul fronte Lega ci sarebbe il gradimento dei salviniani all'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano. L'incompatibilità di D'Alfonso. Regione o Senato tre giorni per la decisione. Questo l'out-out arrivato al presidente della giunta regionale. Nel taglio basso il caso Agir. Ora protestano i comuni esclusi. Premiati solo i sindaci di Forza Italia e del PD. Ciclo dei rifiuti tutti contro tutti dopo la nomina di biondi presidente Alessandrini a capo del CDA. Andiamo adesso a vedere anche la pagina Abruzzo della città. Anche qui c'è il caso D'Alfonso in primo piano. Deve decidere entro tre giorni. La giunta per le elezioni conferma l'incompatibilità. Ma l'astensione del PD rischia di allungare l'iter. L'ufficialità di Gasparri. La giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Esaminato il caso D'Alfonso. Rilevando l'incompatibilità tra la carica di presidente della regione Abruzzo e quella di senatore. Verso le elezioni saltate e rinviate le regionarie 5 stelle. Giallo la candidatura per smargiassi. Questa è la pagina Abruzzo della città. Proseguiamo invece con le pagine di primo piano del centro. Abruzzo in campo i big. 5 stelle di maio domani a Pescara. Il vice premier sarà nel capologo adriatico dopo la sospensione delle regionarie. per illustrare il decreto dignità approvato ieri alla Camera. Il tweet di Conte orgoglioso di questo governo. Così il premier. Poi ancora per quanto riguarda la politica. Rapino con il flop delle regionarie. I grillini hanno calpestato il principio di trasparenza. Scendiamo nel taglio basso. Pietrucci scrive al premier Conte. rinunciate alle opere il consigliere regionale al capo del governo. Il territorio in cui ricadono è a rischiosismi. Così parla del gasdotto e della centrale SNAM di Sulmona. Poi il rapporto Svimez. Paolucci dice un'ottima prova. Febbo lo contraddice. È un'ennesima figuraccia. Secondo il consigliere d'opposizione che riporta i dati migliori per quanto riguarda le altre regioni del Sud Italia. Di spalla. Primo contratto sul commercio che nasce a Chieti. Contrattazione di secondo livello che è stata presentata ieri proprio con una conferenza stampa nella sede della Confcommercio di Chieti. Noi se la regia è pronta possiamo andare a vedere il servizio sulla conferenza stampa che ha presentato appunto questa contrattazione di secondo livello, questo contratto integrativo. Vediamo. Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati che vengono assunti con contratto a tempo determinato, limiti ai contratti a tempo determinato, sgravi per le aziende che agevolano la conciliazione dei tempi di vita lavoro, costruzione di un welfare regionale, nuove regole per il lavoro domenicale. Sono alcuni dei punti qualificanti del contratto collettivo integrativo regionale del terziario abruzzese firmato da Confcommercio e dai tre principali sindacati CGL e Cislewil. Cambierà, cambierà molto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Ci auguriamo che le imprese che sono tante in Abruzzo, sia quelle della costa che dell'area interna, possono applicare questo contratto usufruendo dei benefici che esso dà. Ci auguriamo che questa buona pratica venga esportata anche in altre regioni perché è un risultato di un lavoro lungo, paziente e costante che però finalmente ha messo insieme le parti sociali del mondo del terziario, dando risposte concrete alla nuova economia e quindi all'innovazione e soprattutto a vantaggi anche di natura economica e fiscale sia per il mondo delle imprese che per i lavoratori. L'accordo è stato faticosamente raggiunto con una trattativa che alla fine è riuscita a mettere tutti d'accordo. Abbiamo raggiunto un accordo con Commercio unitariamente tutte e tre le sigle sindacali che dà degli strumenti innovativi per le imprese e per i lavoratori per dare da una parte più flessibilità e la possibilità alle imprese di espandersi e dall'altra parte di eliminare il concetto di precarietà come una condizione stabile. Il filo conduttore di questo accordo è che da una parte si concede degli allargamenti sulla flessibilità, sull'utilizzo dell'apprendistato eccetera eccetera, dall'altra parte il contratto a tempo indeterminato è il modello ideale. Innanzitutto il commercio del terziario nel nostro Abruzzo rappresenta il 70% del PIL. Io non dico che bisogna abbandonare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese industriali, va sicuramente monitorato e contrastato, ma sarebbe assolutamente sbagliato non tutelare quella che è una ricchezza importante come quella del terziario in un territorio che è già stato massacrato sia dalla crisi economica che dal terremoto. Per cui il primo passo importante dei corpi intermedi che quando sono chiamati alle responsabilità dimostrano di avere capacità di poter portare avanti gli interessi di un territorio. Cambia molto perché questo contratto l'abbiamo condiviso in due, la parte datoriale e la parte sindacale. L'abbiamo voluto in due, quindi è un aspetto innovativo questo. Abbiamo realizzato questo accordo per dare la possibilità alle imprese dell'Abruzzo di superare le loro difficoltà per quanto riguarda le assunzioni e fronteggiare il mercato, ma nello stesso tempo abbiamo chiesto agli imprenditori abruzzesi di farsi carico, di incrementare e stabilizzare l'occupazione. Questi sono i due pilastri su cui si concentra questo contratto. Andiamo avanti adesso con il giornale. Nella pagina Abruzzo del centro, le eccellenze della regione, gli ambasciatori d'Abruzzo nel mondo per il 2018. Ecco i nomi degli ambasciatori d'Abruzzo nel mondo. Stasera a Tagliacozzo la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento. Premia Laura Benedetti, Roni Pedro Colanzi, Filippo Giorgi e Giorgio Toschi. E poi ancora nel taglio basso, tre giorni con la brigante Michelina, spoltore l'ottava edizione del festival organizzato dall'Associazione Fonte Vecchia. Passiamo alla pagina di Pescara, rimaniamo al quotidiano il centro. Incidente in un garage di Carpineto, investite da una fiammata, gravi due donne ustionate, stavano preparando la salsa di pomodoro, ferita anche la proprietaria di casa. I consigli degli esperti, bombole e fornelli attenti agli oggetti infiammabili. Il comandante dei Vigili del Fuoco invita a tenere conto di alcuni aspetti tecnici, impianti realizzati solo da chi ha competenze specifiche, mai essere leggeri. E poi col diretti è importante conoscere l'origine dei pomodori, una tradizione che in Abruzzo in molti seguono facendo le conserve in casa. Prima di andare a vedere il servizio, completiamo la lettura di questa pagina. Scende dall'auto e lo investono, incidente sull'asse attrezzato, il ferito di Scafa ricoverato per fratture alle gambe. Ma torniamo alla notizia precedente, quella che riguarda l'incidente a Carpineto della Nora. Andiamo a vedere il servizio di Vestina News. Tre signore sono rimaste uscionate nella mattinata di oggi a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara. A causare l'incidente incontrata versante al bosco nei pressi dell'ex ristorante La Roccia, probabilmente un ritorno di fiamma del bruciatore che le signore stavano usando per cucinare i pomodori per la classica salsa abruzzese. A dare l'allarme la signora Sonia Petrocco, rimasta illesa insieme ad un bambino, che in quel momento si erano allontanati per lavare i pomodori. Immediatamente si sono attivati i soccorsi con i vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Alanno, carabinieri di Peneci, Vitela, Casanova, forestale di Carpineto e due ambulanze. Una signora di 68 anni è stata ricoverata con ustioni di primo grado al Policlinico di Chieti. Invece due signore di 46 e 61 anni, apparse subito più gravi, sono state trasportate rispettivamente a Naboli e Brindisi. Sul luogo dell'accaduto anche il sindaco del piccolo centro, Donatella Rosini, che scongiurato il peggio, ha voluto ringraziare i soccorsi per la tempestività, sottolineando anche la difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente. Quando ho sentito, diciamo, ho visto questa fiammata, loro che urlavano, prontamente ho chiuso tutte le valvole del gas, e ho preso il cellulare e sono riuscita a chiamare il 118 dicendo che dovevano mandare sia un elisoccorso che un'ambulanza. Ho descritto i feriti, come erano le ustioni e poco dopo già ho sentito l'ambulanza che arrivava, l'elicottero. Adesso le ustioni sono fortunatamente di primo grado, non sono gravi, quindi io spero che tutto si risolva subito, che le signore possano, diciamo, guarire al più presto. Ecco, possiamo riassicurare tutta la comunità di Carpineto perché comunque ci si conosce tutti. Sì, sì, infatti poi ho chiamato la signora qui vicino, la signora Maria, è venuta subito, sono arrivate altre signore, Nicoletta, insomma sono accorsi tutti per aiutarci, ci hanno aiutato con i bambini, perché uno fortunatamente era vicino a me, non stava diciamo nella stanza, l'altra bimba dormiva e quindi hanno preso i bambini, li hanno portati con loro e adesso abbiamo dovuto fare tutte le pratiche burocratiche, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, tutti, quindi fortunatamente ecco, il peggio forse è stato scongiurato, non lo so. Ancora sul quotidiano Il Centro, completiamo la lettura delle pagine di Pescara. Il piano della sosta, Riviera Nord, parcheggia a 2 euro l'ora nel progetto per le aree di risulta, è prevista una mini rivoluzione, cambieranno anche le tariffe nelle strisce blu del centro. E poi il sindaco Alessandrini, ma i nuovi prezzi non sono alti, si pagherà meno che in altre città, dice il primo cittadino. Ancora Viale Regina Margherita, protesta per le telecamere, i commercianti del centro crollati, gli incassi il sabato con l'impianto acceso, parte la petizione per dire no agli occhi elettronici nella zona a traffico limitato. Via Verrino e strada privata, no alle auto, i residenti sul piede di guerra, stop al transito consentito dal comune, e la procura sequestri l'area. Nel taglio basso, scuole, alti 300 mila euro di lavori. In corso gli interventi per la messa in sicurezza di elementari e medie comunali. Nella pagina successiva, Sting fa scalo a Pescara, blitz prima del concerto. La rockstar è sbarcata a sorpresa ieri pomeriggio all'aeroporto d'Abruzzo. L'ex leader dei police ha poi raggiunto Ascoli Piceno a bordo di un furgone. Andiamo a vedere poi le altre notizie. L'Adriatica, lo storico Lido guidato solo dalle donne, la pagina di approfondimento del centro. Invece per quanto riguarda Montesilvano, nascondeva l'eroina nella stalla e è stato preso per azione antispaccio. I carabinieri arrestano un 47enne di Atessa con due chili di droga destinati al mercato locale. L'uomo sorpreso in via Cavallotti. Nel taglio basso, via Polacchia al buio, malviventi in azione, protestano i residenti. Il parcheggio del liceo d'Ascanio ricettacolo di ladri, coppiette e spacciatori. Altre notizie, case popolari di via Salieri, incompiute da sette anni. In Montesilvano fino a oggi si sono susseguiti molti annunci per il completamento, ma la palazzina di edilizia residenziale non è stata ancora terminata. Nel taglio alto, a Città Sant'Angelo, centro episcopo, l'area in stato di abbandono. Passiamo alla pagina successiva. Le vibrazioni in concerto scattano i divieti in centro. Francavilla, limitazioni al traffico domani in Piazza Sirena a partire dalle 18.00 in funzione del centro operativo comunale. Stop anche alla vendita di bevande per il concerto in Piazza Sirena. Proseguiamo con Francavilla, un bilancio del Blue Bar. 10.000 spettatori per ogni serata, questo quanto raccolto secondo gli organizzatori. Ancora Francavilla, operai senza stipendi da tre mesi, protesta dei lavoratori del cimitero. L'impresa dice risolveremo il caso, oggi il consiglio, sulla polizia mortuaria. Andiamo nella pagina successiva. Cappelle, due fratelli affittano i terreni con gli orti coltivati. Marco e Sandro Saccoccia si sono inventati un lavoro. Raccolgono prodotti per i clienti in cambio di una retta. Ancora da Penne, Istituto Marconi. Lavori al termine. Penne l'obiettivo è la riconsegna prima dell'inizio dell'anno scolastico. Andiamo a vedere adesso le notizie da Pescara sul messaggero. L'ora del bike sharing. La irlandese Urbo ha un passo dall'appalto e l'apertura. 500 mezzi a due ruote disponibili dall'autunno. A peggior localizzazione eviteranno il parcheggio nelle rastrelliere. Una sola offerta in risposta al bando del comune è il monitoraggio satellitare. Eviterà furti e vandalismi. E poi anziani vittime dell'AFA. Anche ieri 10 ricoveri. Il comune si muove in attesa della tregua meteo di oggi. Continua la mobilitazione di pronto soccorso e servizi sociali. Nel taglio basso, notturno, ironico, amaro. Vaime racconta Flaiano. A quattro mani con liceo di Biase. L'autore TV firma un ritratto inedito del grande pescarese. Oggi ci sarà la presentazione. Andiamo avanti. Musei, Infopoint, Degrado, Pescara bocciata. Le disavventure di due turisti triestini finiscono su Facebook. Viaggio da incubo a partire dalle condizioni della stazione Piazza della Rinascita. Non so dov'è. Dopo la risposta sciocca alla PTR e la sorpresa delle cascella chiuso in piena estate. Il ristoratore Lanfranco Sabatini raccoglie lo sfogo e lo rilancia. Nel mio locale, più quadri che al Museo Colonna. Nella pagina successiva torniamo a Carpineto della Nora. Tre ustionate dal fornello dei pomodori. Una fiammata nomana e un principio d'incendio durante la preparazione delle conserve. Le donne investite dal fuoco. Tragedia sfiorata a Carpineto della Nora. In gravi condizioni la figlia della padrona di casa. Anche lei ricoverata. È una vicina. Questo per quanto riguarda anche il messaggero. Adesso per quanto riguarda le pagine di Pescara del messaggero. Restiamo al giornale romano. Andiamo nelle pagine di Chieti. Per seguito un'intera famiglia. Per voi è finita. È stato arrestato. Stalker per un amore non corrisposto. Minaccia e aggressioni per due anni. Nel mirino dell'albanese una donna di 50 anni. La madre e i due fratelli. Le indagini condotte dai carabinieri. L'indagato fermato dopo l'ultimo messaggio lasciato sull'auto. Pagherete con la vita. Aveva scritto. Poi boss arrestato. Si indaga sui pizzini trovati nel covo di Simone Cuppari. E poi ancora. Sede dell'archivio di Stato. La spunta un'impresa romana. Nel taglio basso. Tassisti di nuovo minacciati in aeroporto. Lettera al questore. L'assessore di Biase fa appello ad Alfonso. Chiedendo di mantenere le promesse. Nella pagina di Lancianova Stortona. Trento e Trieste. Il corso si rifà in look. Nuova pavimentazione con il simbolismo della presentosa. Per il settembre lancianese. Poi lavori agli ultimi due blocchi. Stop alle auto. L'assessore caporale. Dice. Niente più vetture. Anche per la sicurezza dei pedoni. Specie dei bambini. Ancora. No alla discarica di amianto a Fontanelli. Vanno tolti rifiuti speciali e pericolosi. Questo ieri si è detto a Rocca San Giovanni. E nel taglio basso mettetevi allegria in tutto ciò che facevi. Mettevi scusate allegria in tutto ciò che facevi. Ieri l'addio a Luca. Morto sulla Trignina. Per quanto riguarda invece Ortona. Ma non solo. Iper ora a tutelare i lavoratori. Consiglio impegna il sindaco per questa avvertenza. E che sia aperta per i lavoratori dell'Iper. Andiamo sulle pagine di Chieti del centro. Si torna sulla cattura di Simone Cuppari. Pizzini e otto telefonini nel covo del boss in fuga. Ecco quello che hanno scoperto i carabinieri nella Tana a Bergamo. Francavilla al centro degli affari. Dalla cocaina fino all'acquisto di bar e night. Vacanza nella casa mobile a 1600 euro. La svolta in una telefonata che appunto ha consentito la cattura del boss. Nel taglio basso vuole sposarla ma la minaccia di morte. Ripa 51 anni arrestato per stalking. Si invaghisce di una donna e lo rifiuta. Inizia la persecuzione. La tragedia in Perù. Stroncato da una polmonite a 34 anni. Daniele Aquilano Felice di Celenza sul Trinio. Trovato davanti la sua abitazione morto. Era chef in un ristorante italiano. L'avvertenza Lazzaroni a Pretoro. Protestano i lavoratori. Picchetto davanti allo stabilimento. L'azienda non trasloghi. Trasloghi. Questa la richiesta. Richiesta è avvasto. Pitbull aggredisce il padrone. L'uomo è zannato al braccio. Medicato. Rischia anche una multa. Adesso andiamo a vedere già subito la pagina del centro di Teramo. Per quanto riguarda la tragedia sfiorata sul Gran Sasso. Aereo precipita salvi due occupanti. Il velivolo con una coppia di tedeschi a bordo era partito dalla Croazia diretto a Roma. La donna ha raccontato che è stato un guasto a causare la perdita di quota e l'atterraggio di fortuna. Andiamo a vedere questa notizia anche sugli altri giornali. Precipita un ultraleggero. Si salvano i due passeggeri. A varia il motore. Il Piper finisce sugli alberi. Solo contusioni per una coppia di tedeschi. Il piccolo aereo caduto a Prato Selva. I turisti recuperati dai vigili del fuoco. Pomeriggio da brivido sul Gran Sasso. Per il fallito atterraggio di fortuna durante un volo spalato Roma. Notizia che troviamo anche sulla città. Eccola qui. Sopravvissuti allo schianto per miracolo. Ultraleggero precipita nei boschi della Val Maone. Coppia tedesca ferita ma salvata dai giovani faggi. Tre inchieste aperte. Quella della procura di Teramo. Quelle tecniche dell'ANAC e dell'ENAV. Per capire il perché dell'incidente. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Sono stati recuperati dai vigili del fuoco in buone condizioni di salute. I due passeggeri dell'ultraleggero caduto sul versante Teramano del Gran Sasso. Tra Intermesoli e Prato Selva. La coppia tedesca, un uomo e una donna, sulla cinquantina avrebbe riportato diverse contusioni e ferite nell'impatto con la vegetazione. Ma al momento del recupero si è dimostrata cosciente. Il Drago 54 del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara è riuscito a visualizzare la carlinga dell'aereo nel primo pomeriggio e a verricellare a terra un soccorritore che ha agganciato i supestiti. Una volta a bordo sono stati trasportati a Pescara e poi, sui mezzi del 118, all'ospedale del capoluogo adriatico per le cure mediche del caso. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'ultraleggero faceva rotta fra Spalato e Roma e sulle montagne abruzzesi ha iniziato a perdere quota. Forse per il forte temporale incontrato durante il volo oppure per un guasto meccanico. Prima dell'atterraggio di fortuna il velivolo fuori controllo ha perso anche il contatto radio con il centrovolo dell'Anac. La donna però è riuscita comunque a chiamare il 112 prima dello schianto e a far scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sarebbe stata proprio la manovra d'emergenza, oltre ad un pizzico di fortuna, ad evitare loro conseguenze peggiori. Andiamo avanti, altre notizie dal Terramano sulla città. Nuovo ospedale, la Aslano scelga in splendida solitudine il presidente dell'ordine degli architetti critico con la visione del progetto di Piano Daccio. Avanti, ZS, il Molise non vuole prorogare Mattioli. Parere negativo per altri due anni di contratto da direttore generale a gennaio servirà un nuovo nome. L'ipotesi futuro, reggenza ad Alterio in attesa della scelta dell'albo nazionale con i tre nomi Terramani, Ferri, Ambrosi e Migliorati. Proseguiamo. Cantieri ancora disagi per tutto il mese di agosto. Lavori a ripetizione in circolvallazione Spalato dove ieri si è materizzato il quarto scavo in tre mesi. Un altro ribaltone per quanto riguarda l'emittenza. La direzione di Super J, ad un mese dall'addio di Cori, la cofondatrice e neodirettrice Facciolini lascia per contrasti con l'editore. Andiamo in provincia. Nessun passo avanti sui problemi dei prati. I parlamentari 5 Stelle denunciano l'immobilismo per il rilancio della stazione turistica Terramana. L'attacco, Berardini si dice stupito del fatto che l'assessore al turismo D'Ignazio non abbia ancora speso una sola parola per il rilancio di Prati di Tivo. Zennaro, Terramano penalizzato, sentiamo parlare solo di Trabocchi e delle stazioni di Ovindoli e Roccaraso. Il rogo allo sfascio. Dopo l'incendio scattano le precauzioni. Stop alla raccolta e al consumo di frutta e verdura e all'uso di foraggio. Di vieti anche a Civitella per quanto accaduto a Sant'Egidio. Fumo nero, le ordinanze sono state messe a scopo precauzionale per la densa nube di fumo nero sprigionata durante l'incendio. Andiamo avanti. Di Antonio è dato buca a Partolini. Il patron del Giulianova conferma i contatti con quello del Nereto Calcio. E ancora il centro di distribuzione poste a Scerne coprirà la zona di Pineto, Roseto e Giulianova garantendo maggiori servizi. Prima di passare allo sport sulla città andiamo a vedere le notizie dall'Aquilano sul centro. Ricorsi in tribunale, buche come trappole. I cittadini chiedono i danni, raffica di richieste per gli scontri, le cadute e gli incidenti. Nella pagina successiva il dramma a Tagliacozzo, poliziotto grave per un cocktail di farmaci, parcheggia l'auto a Marsi e tente il suicidio, forse per una delusione d'amore. Poi scendiamo nella pagina, bimbo rischia di annegare salvato nel lago Sinizio a San Demetrio nei Vestini. E poi andiamo sul messaggero in apertura delle pagine aquilane. Aquilane è caos, il cane eroe è stato ucciso dalla metaldeide, questo è il risultato delle analisi dello zoo profilattico di Teramo. E dunque il giallo prosegue. Di spalla depuratore zona ovest, si blocca l'iter dei lavori, sollecitazione del capogruppo PD Stefano Palumbo. In una prima fase servirà 20.000 abitanti. Nella pagina successiva, Parco del Castello, lavori a settembre. L'annuncio è arrivato dal presidente della fondazione Fanfani. Aspettiamo solo l'ok della soprintendenza. Si tratta di un'area della città fortemente vissuta e che rientra nella strategia di recuperare zone chiave. Andiamo a vedere adesso lo sport. Partiamo dall'Abruzzo Sport del messaggero. Canutè paga e resta a Pescara. Il titolo di apertura. Il 19enne ex Juventus disse addio al Delfino perché venne poco impiegato. Renato Curiangolana battuta 4-0. Marcatori Monachelo Mancuso, Memushai e Cocco. Tra poco vedremo il servizio. Intervista per rotta. Basta errori e stoppa agli alti e bassi, dice il difensore del Pescara. Andiamo a vedere le pagine di sport sul centro. Il debutto in Coppa Italia ci sarà domenica. Intanto Brugman illumina, Monachelo graffia, 4 reti del Pescara all'Angolana. Il gol dell'attaccante. Poi Memushai, Mancuso e Cocco. Fiorillo in dubbio per domenica. Allora noi andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini. Prove generali per il Pescara in vista del match di Coppa Italia di domenica prossima contro il Pordenone. Nella canicola del Petruzzi di Città Sant'Angelo, i biancazzurri di Beppi Pilon superano per 4-0 l'arenato Curiangolana. Formazione del campionato di eccellenza che in questa stagione sarà allenata da Nico De Eugenio, il quale raccoglie l'eredità lasciata da Paolo Rachini. Nel Pescara out l'infortunato del Grosso, oltre al solito Campagnaro e Adelisalde, impegnato in nazionale. Riposo precauzionale per Fiorillo, Marras e Macin. C'è Balzano a sinistra. Palazzi completo del trio mediano con Memushai e Brugman. Mancuso e Antonucci supportano Monachelo. Nei primi minuti il Pescara soffre le gambe pesanti e l'intraprendenza della giovane angolana che insidia in un paio di circostanze castrati. A metà tempo il Delfino accelera e segna tre reti in cinque minuti. La prima porta la firma di Gaetano Monachelo, ben servito dalla destra da Zampano, al minuto 25. Dopo tre minuti il raddoppio, il frutto di una bella trama palla a terra che passa per i piedi di Brugman, Balzano, Memushai e infine Mancuso, il cui sinistro si infila, complice una deviazione. La terza rete è di Memushai che raccoglie e sfrutta l'assistenza di Antonucci, trovatosi nella circostanza sul settore di destra. Nella ripresa trovano spazio anche i vari Yamga, Forte e Carcalis. C'è Cocco al centro dell'attacco che si fa notare a metà frazione con questa incornata che impegna Di Pasquale. Al ventisettesimo spazio anche per Sansovini, al posto di Yamga. Applausi per il sindaco dai tifosi presenti, per il loro beniamino in attesa di sistemazione in Serie C in concomitanza con l'ultimo anno di contratto col Pescara. Un minuto dopo i biancazzurri calano il poker con la bella torsione di Cocco sul corner calciato da Forte. L'ultimo spunto è quello di Bunino che cerca di beffare Di Pasquale da lontano, ma il portiere recupera la posizione sventa prima del trebice fischio finale di quella che per ampi tratti è stata una sgambata al piccolo trotto per un Pescara che aveva lavorato anche nella seduta mattutina. E questo dunque il servizio sull'amichevole del Pescara. Adesso invece passiamo alla Serie C, le manovre dei Biancorossi. Parliamo del Teramo, due bebi in pugno. Si tratta per Pobega e Bolis. Il DS Federico sta cercando di chiudere per la mezzala del Milan. Primavera il centrocampista dell'Atalanta, Zenuni, si presenta. Salvezza, obiettivo minimo per il diavolo. Andiamo a vedere anche il titolo per quanto riguarda la Serie C, quindi sul Teramo, sul messaggero. Bolis e Pobega, il Teramo prova a fare centro. Il ventenne della Dea è un regista e il diciannovenne del Milan una mezzala. Amadio, Tulli e Mancini, per nessuno dei tre partenti, si registrano attualmente delle novità. Andiamo a vedere le altre notizie su questa pagina. Bebi Onembo per Acqua e Sapone Junior alle 19. Parte ufficialmente la stagione 18-19 del Futsal con i campioni della divisione calcio a 5 sul sito e social. Per il ciclismo, poche di gare nel weekend, anche i bimbi protagonisti. Nel taglio basso, Vastese, dal Lecce il portiere Morelli, via alle partenze e poi per l'Avezzano resta la batosta penalizzazione di tre punti. Torniamo sul centro, andiamo a completare la lettura. Calcio a 7, pronta la Summer End Cup a Campli. Poi esclusione ripescaggi, seconda categoria a fuori notte, eccellenza D'Angelo a Sambuceto. Per la Serie D, le abruzzesi, Palladini, Vastese in crescita, ma bisogna migliorare in difesa, Ragonesi in campo oggi pomeriggio a Colle di Mezzo contro il Piazzano, partita la campagna abbonamenti. L'Avezzano, Lavardera via, Fassone resta in prova. E poi Giulianova, il nodo portiere, deve scegliere tra Cannella e Sciba. Poi domani in campo a Lanciano, Gianmarino promuove il Pineto, inizio positivo. La prima uscita dei Rosso Blu, il San Nicolò notaresco domani in campo a Porto d'Ascoli. E ancora nel taglio basso, Francavilla carica Sanchez, farò tanti gol. Lo spagnolo ex spoltore voglio arrivare in doppia cifra domani amichevole con il Penne. Completiamo anche la pagina successiva con la palza a nuoto, il pescarese di Fulvio che beffa gli europei. Il mio sogno è tornare qui, la stella del Settebello e della Prorecco. Perdere in semifinale contro la Spagna per un errore arbitrale non è stato bello, ma vado avanti e punto a Tokyo 2020. Andiamo a vedere anche la pagina di sport della città che chiaramente parla del Teramo. Teramo a Maddio, il divorzio ora è più vicino, scrive il nostro collega Jacopo Forcella. Il centrocampista fuori dal progetto tecnico, la società guarda a due giovani di Milan e Atalanta. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione come sempre con le tre edizioni del TG6, alle 14, alle 19 e alle 23. Non resta che augurarvi una buona giornata. La nostra informazione come sempre con le tre edizioni del TG6.